Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Una passeggiata approfittando del clima primaverile, poi Lorenzo, nove mesi, messo a fare la nana al caldo nel suo passeggiro, cullato da tutto l'amore dei nonni materni, un nipotino accolto come una sorta di regalo dal cielo, una gioia immensa, un piccolo battufolo che le regrava la giornata della famiglia con le sue prime smorpie, le sue prime biasiscate parole, i suoi sorrisi che illuminavano la quotidianità di una famiglia come tante, dove la serenità era di casa. Sono bastati pochi minuti, la tragedia ha tolto il fiato a quanti improvvisamente si sono trovati senza Lorenzo e le sue manine, i suoi occhi sorridenti che strappavano una carezza. Lorenzo è morto alle 17.28 di venerdì all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dopo disperati tentativi di riportarlo alla vita. È stato trasferito in pronto soccorso dagli operatori del 118 che alle 15.50 erano stati chiamati dalla famiglia Daros in via Dalmas a Brugnera. Il bimbo che aveva messo a dormire sul passeggino non respirava quasi più, difficile trovare parole per immaginare il dolore, cupo che come un fiume in piena in un attimo ha travolto sconvolgendola la vita della famiglia. Del nonno Romeo e della nonna Maria Teresa, della mamma Lara e del papà Andrea, le parole non ci sono. E ora saranno le perizie e l'autopsia disposta per mercoledì del PM Monica Carraturo ad accertare le cause della morte del bimbo. L'unica certezza è che se ne è andato per sempre a causa di una tragica fatalità che è come atto dovuto. I nonni sono indagati ora con l'ipotesi di omicidio colposo. Atto dovuto va rimarcato per poter fare le indagini. Nei primi riscontri Lorenzo sarebbe morto soffocato, i nonni dopo la passeggiata non hanno messo a dormire nel passeggino come chissà quante altre volte avevano fatto. Un sonnellino e poi un pomeriggio di giochi e coccole. Ma quando sono andati a vedere se si era svegliato l'hanno trovato agonizzante. Probabilmente il bimbo si è svegliato, ha cercato di liberarsi e di scendere dal passeggino. Ma è rimasto incastrato e la cinghia che separa le gambe e impedisce di scivolare giù gli si è stretta attorno al collo soffocandolo. Togliendogli quindi poi la vita. I nonni, pur stravolti da quello che stava accadendo, hanno subito chiesto aiuto e hanno assistito angosciati e impotenti al tentativo di rianimarlo. Poi la corsa in ospedale, l'attesa, la speranza, di un miracolo che si è spenta alle 17.28 quando è stata dichiarata la morte del piccolo Lorenzo. Lacrime di dolore, di rabbia, occhi sbarrati, abbracci disperati. Chissà quanto lunghi sono stati quei minuti per i genitori e i nonni di Lorenzo, primo e adorato figlio di Andrea e Lara. Un frutto comune nel Veneto orientale per affrontare il problema della carenza di organico tra le forze di polizia. Il problema sollevato dal sindaco di Concordia Sagittaria Claudio Odurico con l'assessore alla sicurezza Simone Ferron è stato preso a cuore fin da subito dai colleghi della conferenza dei sindaci e poi dagli organi politici al governo. Siamo molto soddisfatti che dopo aver raccolto il grido d'aiuto da parte dei sindacati delle varie forze dell'ordine e aver portato il problema in discussione alla conferenza dei sindaci, spiegano Odurico e Ferron, ora finalmente vi è una presa di coscienza unanime e suffragata anche dalla interrogazione parlamentare della deputata Chetti Fogliani. Vi è poi la volontà a tutti i livelli di trovare velocemente una soluzione al problema, con i due sindacati di polizia, SAP e SIULP, che con coraggio hanno messo a nudo un problema diventato ormai insostenibile. Al centro del problema la continua carenza di agenti e di polizia ai commissariati di Portogruaro e di Iesolo del distaccamento della polizia stradale e della polfer di Portogruaro, nonché alla compagnia Carabinieri di Portogruaro. L'interrogazione è arrivata sul tavolo del ministro Luciano Lamorgese. Nella missiva si legge che l'ufficio della polizia stradale di Portogruaro sarebbe rimasto con un organico di solo due agenti, peraltro in procinto di essere trasferiti e sarebbe quindi prossimo alla chiusura. Nonostante il 27 novembre 2018 l'allora sindaco di Portogruaro avesse ricevuto rassicurazioni che il distaccamento sarebbe rimasto aperto e potenziato. Altrettanto preoccupante sarebbe la situazione degli altri uffici della zona di Portogruaro. La polizia ferroviaria avrebbe in organico solo 7 agenti e il pomeriggio la sede è chiusa. Il commissariato ne ha 30, di cui ben 5 prossimi alla quiescenza, mentre il commissariato di Iesolo avrebbe solo 38 operatori di polizia a fronte di 52 previsti. Gli onorevoli Chetti Fogliani e Gianni Tonelli hanno poi ribadito al ministro che dopo un tavolo di confronto con il questore di Venezia è emerso che il commissariato di Portogruaro riuscirebbe ad assicurare solo due turni di volante, mentre il commissariato di Iesolo soltanto tre, pur essendo utenza del 113. Per tutti c'è quindi la volontà di trovare una soluzione al grido d'allarme lanciato dagli stessi operatori delle forze dell'ordine. Supporto nell'esecuzione dei tamponi da parte dei militari dell'esercito e trasferimento del Covid Point H24 dalla sede di Via Girardi alla più spaziosa casa del volontariato di Via Svezia. Sono queste le principali novità emerse nel punto stampa con l'Ulss4 Veneto Orientale. Sì, l'esercito ha messo a disposizione una squadra, un medico e degli infermieri che aiuteranno il nostro personale a fare i tamponi alla popolazione e sarà allocato qui a San Donato di Piave nell'H24 in Via Girardi fino a questa settimana e dalla prossima settimana nella casa delle associazioni che ci ha messo a disposizione il Comune di San Donato. A supportare il personale dell'Ulss4 sarà dunque una squadra di sette militari della caserma Capitò di Portogruaro formata da un medico, due infermieri e quattro movieri con operatività dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14. Sul fronte dell'andamento dell'epidemia invece la situazione non sembra destare particolari preoccupazioni. Ma diciamo che in questo territorio, in questo momento non assistiamo a grandi numeri di infezioni. Siamo a 794 persone infette su una popolazione di 228 mila abitanti e quindi lo 0,3%. Solamente il 4% di queste 794 persone sono ricoverate, quindi circa 35 persone e di queste 35 persone solo 3 in terapia intensiva. Sono dati veramente buoni che dobbiamo mantenere assolutamente con la collaborazione della popolazione che in questo territorio si sta comportando veramente bene e con l'attività dei medici e degli infermieri di tutta l'azienda sanitaria che sta lavorando veramente moltissimo. Il nostro obiettivo è che questi numeri non salgano per non dover diminuire l'attività ordinaria ospedaliera e quindi il numero di interventi chirurgici, il numero di visite specialistiche ma proprio continuare l'attività ordinaria pur garantendo a tutti una buona cura del Covid attraverso i posti letto che abbiamo preparato ancora a suo tempo presso il Covid ospita di Iesolo grazie alla collaborazione poi della Casa di Cura Rizzola, grazie alla collaborazione delle altre strutture che ci prestano un posti letto in caso di esigenza che per il momento per fortuna non c'è. Volevo dirvi una cosa proprio dei cittadini più piccoli che volevo parlarvi. Qualche giorno fa avevo detto che molti ragazzi vivono l'esperienza, questa esperienza di loro gioventù assolutamente nella maniera normale per quanto riguarda la loro età, ma in questo periodo l'assoluta libertà che si prendono non è più possibile, nel senso che io continuo a vedere diversi ragazzi, delle medie o delle prime superiori che si radunano, vivono appunto la loro gioventù, però senza usare i mezzi di protezione che ormai credo siano entrati nella sensibilità di tutti. Non ci sono le mascherine, ne vedo pochissime, chi le indossa le usa sotto il mento e quindi faccio di nuovo una fortissima raccomandazione ai genitori, ai genitori che possono, sono gli unici che possono effettivamente intervenire dicendo ai ragazzi che questo è il tempo di essere più seri, più consapevoli di ciò che sta accadendo. Senza drammatizzare, sapete, non è assolutamente necessario farlo, però se dobbiamo limitare il contagio e quindi propagare del virus dobbiamo tutti rimare nella stessa direzione, siamo tutti nella stessa barca. Ecco, grande raccomandazione rispetto a questo. Proprio ho voluto fare questo video in particolare per questa ragione. Tutti i centri commerciali chiusi nella prima domenica di restrizioni, ma non il 90 Designer Outlet. Ieri l'outlet era aperto, eppure giovedì scorso sul sito web era stato comunicato che in osservanza delle nuove disposizioni del governo e della regione per ridurre il contagio da Covid-19, il 90 Designer Outlet sarebbe rimasto chiuso durante il weekend. Un ulteriore avviso il giorno dopo informava sui nuovi orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, chiuso il sabato e domenica. E invece sabato sera alle 20 circa, un nuovo post sullo stesso sito ha informato che in seguito alle nuove disposizioni della regione, l'outlet sarà regolarmente aperto tutti i giorni. Il capovolgimento della decisione iniziale, che ha portato ieri e domenica all'apertura della boutique dell'outlet, è avvenuto in seguito alla pubblicazione di una nota della regione rispetto al recente di PCM, in cui si precisa che i parchi commerciali devono considerarsi esenti dalla chiusura prefestiva e festiva, laddove non vi sia un atrio al chiuso di accesso agli esercizi commerciali singoli, ma sia caratterizzato da spazi aperti di accesso ai singoli negozi. E questo è il caso del 90 Designer Outlet, che infatti non è classificato come un centro commerciale, bensì un parco commerciale, quindi può restare aperto nel weekend come infatti è avvenuto. Una scelta asparamente contestata, una forzatura interpretativa per tanti. Sul sito dell'outlet si è scatenato per tutta la giornata un putiferio di critiche dei dipendenti e di molte altre persone. I commessi di molte delle 175 boutique si sono infuriati per essere stati avvisati soltanto la sera prima, che il giorno dopo avrebbero dovuto essere presenti in negozio. È una cosa vergognosa comunicarlo alle 20 di sera per la mattina quando tutti i negozi si devono organizzare. Questa è una mancanza di rispetto. Si lede la dignità di un lavoratore, se non si può avvisare prima si lascia chiuso. Potevate riaprire direttamente nel prossimo weekend e saremmo stati tutti felici e tranquilli. Centinaia di commenti hanno sostenuto le ragioni dei dipendenti, ma tanti hanno anche condannato la decisione di aprire la domenica ai visitatori, vista la diffusione del contagio causato degli assembramenti. Bravi, aprite così il lockdown sarà assicurato. Così passiamo prima da zona già alla zona rossa. Grazie a queste scelte sconsiderate, tra poco vi faranno chiudere tutta la settimana. Diversi hanno contestato anche il cavillo la differenza tra centro commerciale, come peraltro viene indicato l'outlet sui social, e parco commerciale autorizzato all'apertura nel fine settimana. Fabio Turchetto, presidente dell'azienda trasporti veneto orientale a TVO. Dunque accordo raggiunto con RFI per il nuovo terminal dei bus e naturalmente della ferrovia. Ecco, esattamente in cosa consiste questo accordo, presidente? Allora, è un vecchissimo accordo che credo risalga a più di dieci anni fa, saranno anche forse quindici gli anni in cui questa cosa era stata pensata. Nell'accordo inizialmente i soggetti erano tre, RFI, ATVO, Regione Veneto. Adesso invece c'è solamente RFI e ATVO. I termini dell'accordo sono molto semplici, ATVO interviene in questo accordo per totali 475 mila Euro. RFI invece interviene in questo accordo per totali 1 milione e 300 mila Euro. entro gennaio 2021 la gara dovrebbe essere pubblicata per poi iniziare i lavori entro settembre 2021. L'accordo in questione fa parte dell'accordo più generale che si chiama, conosciuto direi da tutte le persone, come bando periferia. Ecco, questo è un altro tassello che ATVO mette nella sua visione lungimirante di progettazione e che tra l'altro prevede anche un intescambio tra i trasporti via gomma e i trasporti via ferro. No, è fondamentale l'intescambio trasporti gomma-ferro. Adesso speriamo che si inneschi anche la nuova visione della mobilità, che è la mobilità green, perché una volta fatto il trasporto ferro-gomma nella stessa zona, nello stesso ambito, io vedo per esempio nell'autostazione di Portogluaro, vista anche la grandezza del piazzale, eccetera, eccetera, ci sarebbe possibilità anche di avere un intescambio, magari qui parleremo con il comune di Portogluaro, per i bike, anche per l'eventuale ricarica di macchine elettriche, eccetera. Io credo che l'idea dell'interscambio e del nodo della mobilità tutto in un unico punto sia fondamentale e quindi noi proseguiamo su questa strada. Il prossimo passo che faremo sarà l'inizio dell'operazione Bando Periferie a Sant'Ona di Piave, meglio conosciuta come Porta Nord, anche lì ci sarà questo tipo di intescambio tra Ferrovie dello Stato e Ativò. Comunque nonostante il momento difficile dal punto di vista finanziario e oltre che sanitario, Ativò vuole mantenere assolutamente gli impegni presi verso il territorio e gli impegni presi con le altre società impegnate in questo tipo di sviluppo. Sara Moretto nominata nella cabina di regia nazionale di Italia Viva, la deputata portogruarese che ha seguito fin da subito il partito fondato da Matteo Renzi sarà di fatto tra coloro che seguiranno il futuro di Italia Viva. La terza assemblea nazionale di Italia Viva ha infatti deliberato gli organi nazionali del partito. Nella cabina di regia c'è anche la deputata Sara Moretto. Sono orgogliosa di essere stata nominata per questo ruolo, ha commentato Moretto, è anche una grande responsabilità che accetto con determinazione. Da oggi inizia un nuovo lavoro, il percorso è ancora più in prima linea per far crescere Italia Viva. L'onorevole di Giussago di Portogruare è molto attiva non solo nel partito, è infatti anche la capogruppo della decima commissione che si occupa di attività produttive, commercio e turismo. Tutti settori molto importanti per il paese e in particolare per il nord-est dove l'industria turistica è da sempre un traione economico. Laureata in economia aziendale alla Università Ca' Foscari di Venezia, Moretto ha iniziato la sua carriera politica come consigliere comunale a Portogruaro, venendo eletta per due volte di seguito, 2004-2010, in quota una lista civica di centrosinistra. In seguito alle politiche del 2013 è entrata nella Camera dei Deputati tra le fila del Partito Democratico. È stata poi confermata alle politiche del 2018. Nel settembre del 2019 ha poi lasciato il Partito Democratico aderendo al nuovo partito di Matteo Renzi. Italia Viva! Dall'Ottico al negozio di borse, dal panificio alla pizzeria, dalla fioreria al negozio d'abiti, sono state ben 14 le attività commerciali del centro di Ieslo Paese che quest'anno hanno voluto partecipare al concorso indetto dal comune Autunno in vetrina. Abbiamo avuto queste 14 vetrine quest'anno, non più 9 come l'anno scorso, in un momento molto difficile perché pensavamo che saltando la festa d'autunno non si potesse realizzare, perché il momento è difficile. La fortuna è che siamo ancora in zona gialla e dunque questo ha dato la possibilità di continuare a lavorare almeno fino alle 18 le nostre attività. È un Paese molto forte perché come avete potuto vedere i commercianti hanno risposto molto bene e questo è il segno positivo e come essere al commercio e come amministrazione siamo non contenti di più. Dunque è un gioco di squadra e questo fa capire che l'amministrazione è vicina al commercio e i sottoscritti con l'amministrazione come essere al commercio sono sempre disponibili a essere presenti e a valorizzare quelle che sono le nostre attività del territorio. La giuria si è riunita quindi questa mattina per valutare gli allestimenti delle attività attraverso specifici criteri prestabiliti. Sono state valutate secondo una scala di criteri, tre criteri in particolare, la creatività, l'originalità e l'aderenza al tema che ovviamente è l'autunno. Si è così venuto a creare una sorta di filo conduttore in tutto il centro storico di Jesolo che ha messo in campo l'autunno e devo dire che i risultati sono stati davvero molto molto piacevoli. E gli eventi che animeranno la città del Paese del Lido comunque, per quanto concesso dalle restrizioni imposte dalla pandemia, anche per quest'anno non mancheranno. Il sindaco Zoggia naturalmente sta cercando insieme all'amministrazione di lavorare e dare il massimo e dunque stiamo facendo tante cose per il Paese e anche per il Lido. Quest'anno c'era una grande coreografia di luci, avremo le piazze con vari alberi di Natale e perché è giusto che il sogno di Natale, almeno ai bambini, ai resti perché non possiamo proprio chiuderci in casa e rimanere al buio. Dunque l'amministrazione c'è, sta investendo perché siamo convinti che le amministrazioni che lavorano in sinergia con le attività e hanno un riscontro positivo come oggi, è giusto che l'amministrazione vada avanti e ascolti prima di tutto il territorio che è importante e questo lo stiamo facendo sempre. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24, ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata, rimanete con noi, alla prossima!